L'ho tolta contro la San Benedettese, ho preso un altro polvo e quindi ho potuto rimetterlo. Adesso vediamo, però la prossima settimana un'altra visita, vediamo come... Ho visto quando ti sei inzucchiato, attaccavamo di là e sono stato... E Campari che ha fatto questa maschera? Sì, saluta a lui perché è andata un'amicizia tra lui. Allora saluta, però quando lo vedi lo conosco. Allora...